Il 2020 si apre con una riduzione del 25% dello spreco alimentare domestico rispetto allo scorso anno con un risparmio di 1,5 miliardi di euro e un costo settimanale medio a famiglia di 4,91 euro, circa 6,5 miliardi di euro totali. Un bel risultato dopo gli aumenti dal 5 al 10% degli ultimi 10 anni. Nelle case degli italiani, insomma, si butta via meno cibo e cresce la consapevolezza dell'importanza di adottare comportamenti antispreco. Un'inversione di tendenza che è però solo un primo passo. L'agenda 2030 infatti pone l'obiettivo di dimezzare gli sprechi. Ogni anno nella spazzatura di casa si buttano oltre 2,2 milioni di tonnellate di cibo, 36,54 kg a testa e un valore di quasi 12 miliardi di euro che sommati ai 3,293 milioni di spreco della filiera ci portano ad oltre 15 miliardi di euro. Secondo l'indagine Waste Watcher, condotta a fine gennaio su un campione di 1.200 cittadini, crescono l'attenzione per i costi ambientali ed economici legati allo spreco del cibo sulla scia del Green New Deal e la consapevolezza del binomio cibo e salute. Per 7 italiani su 10, il 66%, c'è una connessione precisa fra spreco alimentare, salute dell'ambiente e dell'uomo. Si rileva anche che per un italiano su 3, il 36%, durante la spesa l'attenzione agli aspetti di salubrità del cibo è determinante, per un altro 36% non lo è. Il miglior alleato dei consumatori si conferma l'etichetta. Il 64% degli intervistati dichiara di consultarle come garanzia di sicurezza. Per 7 italiani su 10, il 68%, l'ultimo decennio è stato decisivo in termini di consapevolezza dello spreco alimentare, mentre per il 24% l'attenzione è rimasta inalterata.